Qualche anno fa è morto un nostro amico schiacciato fra le lamiere di un'auto. Aveva solo vent'anni. A quell'età lì non bisognerebbe pensare alla morte. Però la vita è così, non segue un ritmo prestabilito. La canzone è concepita che sia un bel salire, un continuo salire nel tempo. Poi c'è gente che dice che questo non va bene perché distrae l'orecchio, ma... chi se ne frega! Pace! Una volta sono riuscito persino a volare, voglio vedere se ti trovavo lassù. Quella volta ti ho visto ma non ti sei accorto dei miei occhi e di...